Per chi non investo come il professor Paolo Coletti? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Vi racconterò tutte quante quelle che sono le mie personali ragioni che nella mia carriera da investitore mi hanno portato a intraprendere delle scelte differenti. E laddove qualcuno di voi pensi che io me la stia tirando, nominando la carriera da investitore, in realtà anche voi state affrontando la vostra carriera da investitore, la vostra avventura. Detto ciò ci tengo a fare diverse premisse prima di andarvi a condividere un contenuto che ho già registrato. Quando si tratterà di condividervi lo schermo del mio computer e farvi vedere il tutto, queste premisse hanno 3-4 punti su cui voglio insistere subito. Il primo punto, ho seguito diversi video di Paolo Coletti ma magari voi siete dei veri fan, avete seguito tutto quanto, quindi io potrei sbagliarmi nel momento in cui vi racconterò a quelle che sono le scelte e le modalità di investimento di Paolo Coletti. Sono abbastanza sicuro di aver capito bene, mi sono fatto un'idea, ma laddove riportassi qualche inesattezza circa quello che ha detto lui, vi chiedo di correggermi nei commenti. Detto ciò, ci tengo anche a dirvi che sono convinto che nessuno abbia la ragione definitiva, in quanto non sono state inventate delle equazioni da seguire per risultare profittevoli, con una confidenza pari al 100%. Il mondo degli investimenti è davvero variegato e ricchissimo di tantissime variabili. Quindi ricordiamocelo. Un altro punto ancora è che qui non si tratta di fare dissing o andare addosso a qualcuno, io apprezzo davvero tanto il professor Paolo Coletti, sia per la qualità dei suoi contenuti, sia per la sua capacità divulgativa e anche mi risulta davvero simpatico, pur non conoscendo a livello personale, per quello che ho visto all'interno dei suoi video. Quindi il livello di apprezzamento per quanto mi riguarda è altissimo, però è chiaro, ognuno di noi quando si istruisce poi deve compiere delle scelte da investitore e le scelte da poter compiere, anche intelligenti e o sensate, sono diverse e innumerevoli, meno male che tutti quanti non la pensiamo allo stesso identica maniera, altrimenti sarebbe un problema, penso sia anche intuibile e logico perché lo sarebbe, però non lo affrontiamo adesso in questo video. E quindi vi ricordo che a livello storico dei grandissimi investitori sono riusciti a essere davvero profittevoli e a riportare delle performance notevoli, pur applicando delle filosofie di investimento davvero diverse. Quindi mi interessava chiarire tutta quanta questa situazione e vedrete delle slide che ho preparato per seguire quelle che sono, diciamo, le mie logiche, i miei ragionamenti, il filo del discorso, in cui io indicherò ragione 1, ragione 2, ragione 3, ma potrebbe essere riflessione 1, motivo 1, motivo 2, logica 1, logica 2, quindi non si tratta di voler imporre la mia ragione. Però è chiaro che io sono molto convinto di quello che faccio, mi sento confidente, ho le mie idee forti, quindi le espongo e siccome le mie idee sono diverse alla fine da quelle del professor Coletti, quando si tratta di scegliere come investire, è chiaro che vi riporto il tutto quanto in maniera forte, convinta, ok? Quindi volevo fare tutte quante queste premesse, che secondo me erano obbligatorie. Però non vi rubo a più altro tempo, io vi vado a condividere lo schermo del mio computer. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se volete sostenere tutto quanto il lavoro che porto qui su YouTube. Ed eccola qui l'immagine del prof Coletti, vi invito a seguirlo laddove magari uno di voi non lo conoscesse, sarebbe abbastanza strano, ma è possibile, porta dei contenuti di altissima qualità ed è anche molto gradevole da ascoltare e da vedere, quindi vi invito a fare questo, al di là che io sia d'accordo o meno poi sulla sua scelta finale da investitore. Spostiamoci qui su Mr. Rip, così vi ricordo come abbia portato un video su Coletti si sbaglia, ecco perché, e poi lo stesso professore abbia risposto con una reaction a Mr. Rip. Quindi se vi siete persi tutto quanto questo confronto fra due degli YouTubers più note in ambito finanziario qui in Italia, vi invito a seguirli. Detto ciò, prima di mostrarvi e motivarvi tutte quante le cose che non mi piacciono, vi devo per forza ricordare quelli che sono i principi sacri dell'investitore che venivano menzionati poi dagli stessi due protagonisti, anche perché fra un minuto circa vi andrò a mostrare degli ETF e poi vi prometto seguiranno tutte quante le cose che non mi piacciono con le dovute motivazioni in cui vi mostrerò come scegliere un equal weight o come scegliere il principio della market cap, alla fine porti comunque dei guadagni molto importanti agli investitori, al di là della scelta. In quanto ciò che conta davvero sono i quattro principi dell'investitore. Io vi anticipo anche che quello che conta veramente ragazzi è l'asset allocation che uno sposa e poi deve rimanere coerente e investito a lungo termine. E ritroviamo questo principio nei quattro pilastri che ci descrive qui la Vanguard, i quattro principi dell'investitore di successo. Il primo è il goal, quindi sono in goals, cioè il target, l'obiettivo. Qual è il vostro obiettivo di investitore? Dove volete arrivare? Quanto volete guadagnare? Che volatilità sapete sopportare? Qual è il vostro profilo di rischio? Qual è il vostro orizzonte temporale? Insomma, dovete scrivervi ed essere molto onesti intellettualmente e molto logici su quali siano i vostri target, su quale sia il vostro obiettivo. Fatto ciò, qual è un altro principio davvero importante? Quello della diversificazione. Non potete mettere tutte quante le uova nello stesso paniere. Non si può andare su una singola azienda, un singolo comparto, un singolo settore. Sarebbe ed è altamente rischioso e anche inefficiente. Poi è importante l'aspetto dei costi. Quindi, al di là della singola scelta che uno possa fare, magari su un fondo particolare, eccetera, l'importante è che comunque il proprio portafoglio finanziario abbia, come risultato finale, dei costi bassi. Bisogna minimizzarli il più possibile. Tutti, dalle commissioni, soprattutto alle spese di gestione, che sono quelle davvero impattanti. Ad esempio, se noi qui riuscissimo a ottenere un 6% all'anno, guardate qui, in 30 anni cosa accadrebbe. Cioè, io vado a investire ad oggi 100.000. Ho un ritorno del 6% all'anno, quindi c'è tutto quanto l'interesse composto. È un conto, se io vengo depauperato, ad esempio, dello 0.7 all'anno. Un conto se vengo depauperato da costi di gestione del 2% all'anno. Cioè, otterremo, per dire, un risultato di 317.000 finale contro 465.000. Quindi un 1.3 di differenza, anzi, sì, un 1.7 a 2. Ho detto, un 1.3 di differenza, alla fine, su 100.000 iniziali, ci porta il risultato finale incredibilmente diverso. Cioè, stiamo parlando di aver perso 150.000 euro. Ovviamente, con degli strumenti che sui mercati, diciamo, escluse dei costi di gestione, riuscirebbero ad ottenere, cioè, laddove riuscissero ad ottenere i medesimi risultati. Quindi con asset allocation molto simile, con dei sottostanti praticamente identici, eccetera, eccetera. Insomma, minimizzare i costi non è un qualcosa da sottovalutare. E dopodiché, la disciplina. Direi che questo è uno degli aspetti fondamentali, importantissimi. forse è fra i principali errori che commettono gli investitori. Quello di farsi prendere dall'euforia, quello di farsi prendere dal panico, quello di avere mille ripensamenti e quindi uscire durante i crash di mercato e poi rientrare semplicemente quando si trovano sui massimi. Insomma, si fa un disastro. Quindi dovete cercare di pianificare e seguire la vostra programmazione finanziaria. Chi fa questo otterrà dei risultati molto importanti. Quindi questa è la premessa del video. al di là della scelta se investiamo i call weight o seguiamo una strategia anziché un'altra, eccetera, eccetera. L'importante invece è sposare una strategia che può benissimo essere differente da un'altra. L'importante è che nel tempo abbia dimostrato di portare dei risultati interessanti e poi seguirla. Andiamo un po' a vedere qui il rendimento di un classico MSC World, ragazzi. Quindi un ETF azionario. Uno ci va a investire, investe in tutto il mondo sviluppato. Sono sicuro che la maggior parte di voi lo conosceranno, investe in 1500 azioni quasi. Qual è stato il suo andamento? Questo qui, dal 2013 ad oggi. Insomma, senza vedere esattamente il punto percentuale a livello di risultati, notiamo come sia stato un investimento fantastico, no? In un decennio. Se io mi sposto su un equal weight, quindi vado a investire cercando di non avere più i ragionamenti della market cap, che significa market cap, ragazzi? Significa che un classico ETF, quindi se non è, diciamo, espresso il contrario, questo è il ragionamento proprio di base, la logica su cui vengono costruite gli indici, ma anche un indice come l'SMP 500, eccetera, è quello di avere nel proprio indice un'espressione che si basa sulla market cap delle aziende che lo compongono. Semplificando al massimo, siccome Microsoft ha una capitalizzazione più importante, più elevata rispetto a tutte quante le altre aziende in questo momento, è chiaro che ha un peso maggiore all'interno dell'indice su questo mondiale ad oggi del 4.62. Quindi c'è un'espressione data dalla grandezza di un'azienda. E se le aziende più grandi del mondo si trovano negli Stati Uniti d'America, è uno è chiaro che diventa molto concentrato sugli Stati Uniti. Quindi questo accade. Se noi invece andiamo a prendere un equal weight, otterremo, vedremo, delle aziende che hanno pesi più simili. Il principio sarebbe quello di partire con un peso uguale. Poi è chiaro, magari il mercato ovviamente oscilla, si muove, è difficile mantenere esattamente la stessa percentuale, ma cercare di avere un portafoglio con dei pesi più simili possibili fra le varie nazioni a livello geografico e magari anche fra le aziende che compongono il portafoglio stesso. Infatti, se noi qui scendiamo, vedete, troviamo ad esempio un peso inferiore degli Stati Uniti, non è più vicino al 70%, ma è per dire al 35%. E vediamo qui, le aziende soprattutto hanno dei pesi abbastanza simili, 0,63, 0,61, 0,58. Quindi non troviamo al primo posto una società che pesa al 4,20, e magari all'ultimo posto 0,01. Non c'è questa differenza. Così abbiamo visto i principi. Però il risultato è comunque interessante. Guardate qui in un decennio quale sia stata la crescita. Andiamo un po' a confrontare i risultati e non è detto che nel prossimo decennio diciamo il vincente, perché lo li confrontiamo, sarà necessariamente a tutti i costi lo stesso, perché nessuno prevede il futuro. Io li vado a confrontare e guardate, abbiamo il market cap, quindi il classico, che ha sconfitto l'equal weight. Noi ritroviamo lo stesso identico risultato nel classico S&P 500. Cioè se noi andiamo a confrontare un S&P 500 con un S&P 500 equal weight, quindi al cui interno le aziende hanno tutte quante lo stesso peso, ora facciamo il confronto. Vediamo che ha vinto la market cap in questi anni. Vediamo un po'. Andiamo a vedere il risultato. Vedete? 290% contro 213%. Ma l'esempio in passato, in epoche passate, in finestre temporali specifiche che uno potrebbe scegliersi, non è stato così, è successo il contrario. Ora qui abbiamo messo semplicemente da quando sono nati gli ETF e poi è una sola performance creata soprattutto negli ultimi anni con il dominio, la crescita incredibile delle grandi big tech, delle magnifiche sette americane. Detto ciò, andiamo a vedere perché non mi piacciono alcune cose che fa il Prof Coletti. Allora, qual è la ragione numero uno? Il mio obiettivo è quello di cavalcare i vincenti di oggi, quindi sto parlando per me stesso, e di domani in maniera veramente passiva e automatica. Questo è il mio obiettivo, quindi quando io mi scelgo ad esempio un All World, cosa faccio? Mi compro un ETF che segue quello che accade nel mondo. Non è che si parte con una sovraesposizione a monte sugli Stati Uniti d'America, perché molti dicono va bene ma abbiamo una sovraesposizione negli Stati Uniti d'America che io non voglio, ma come mai si è arrivati a questa sovraesposizione? Semplicemente perché gli Stati Uniti meritano questa situazione qui. L'ETF va a cavalcare i vincenti di oggi e quindi io so che cavalcherà i vincenti di domani. Una volta, se voi siete degli investitori di vecchia data, non trovate un peso del 70%, trovate un peso del 50% degli Stati Uniti d'America negli ETF mondiali. Se nei prossimi anni, vi faccio un esempio, l'America mediamente perdesse l'1% all'anno, perché non è che l'America domani sparisce e dopodomani la Cina domina il mondo, sono dei processi davvero molto lenti in questo senso, l'ETF si andrà ad adeguare sempre e comunque, perché all'interno dell'anno vi sono più ribilanciamenti. Quindi, come per magia, i vincenti di domani saranno sposati, saranno cavalcati e uno, se fra 30 anni si sveglia e gli Stati Uniti peseranno un 30%, perché si meritano questo, le aziende degli States, sarà tutto quanto già riflesso all'interno dell'ETF. E noi non dovremmo aver fatto chissà quali studi scommesse, aver preso la sfera di cristallo ed essere stati i migliori investitori del mondo per aver capito chi avrebbe meritato di essere inserito in portafoglio, perché queste aziende saranno già incluse automaticamente, appena cominceranno ad emergere, ad avere una capitalizzazione interessante, vedrete come emergeranno, vedrete come ce l'avrete, vedrete come riuscirete a cavalcarle e tutto quanto questo in maniera passiva e automatica senza fare delle scommesse, perché tutto quanto il resto è una scelta discrezionale, è una scommessa che può riuscire oppure no, ma l'unica maniera per seguire l'efficienza del mercato dimostrata da alcuni strumenti è questa qui, in maniera davvero passiva e automatica se vi interessa. Quindi, è proprio la sovraesposizione negli Stati Uniti d'America che è la garanzia che lo strumento finanziario funzioni sul serio, perché se non avesse funzionato non avrebbe superaperformato magari tantissimi fondi e tantissime situazioni, perché non si sarebbe adeguato coerentemente ai vincenti di questi anni e invece ci è riuscito e come mai e come ce ne accorgiamo che è riuscito a cavalcare i vincenti e ci riuscirà anche in futuro proprio perché è sovrasposto sui vincenti ma se cambieranno nei prossimi anni muterà anche l'etf stesso quindi io non vedo quale sia il problema. Il problema invece è laddove uno scegliesse solamente gli Stati Uniti d'America. Quando qualcuno mi dice eh ma investire nell'MSC World è la stessa cosa quasi che investire nell'S&P 500 perché è il 70% America ma non è vero perché se tu investi sull'S&P 500 sei sicuro che sarai sempre 100% America al di là di quello che accadrà agli Stati Uniti d'America nei prossimi decenni. Se invece tu investi sull'MSC World o su un All World che ha ancora gli emergenti che voglio dire ha anche gli emergenti al suo interno o un All Country World che ha gli emergenti all'interno e tu sei esposto alle logiche globali alle dinamiche globali in market cap. Se gli Stati Uniti dimezzeranno il loro controvalore il loro peso la loro market cap l'etf si adeguerà e quindi chi se ne importa ma se invece tu rimani esposto a S&P 500 sarai sempre 100% azionale non ti sarai adeguato alle nuove dinamiche non avrai cavalcato i nuovi paesi vincenti non avrai fatto niente di tutto quanto questo. Quindi ad oggi perché esiste il dominio USA hai tantissima America ma del domani non beh certezza. Però in ogni caso io vi dico non possiamo scommettere soprattutto se cominciamo a essere grandi gente di 40 anni 50 anni o giù di lì comunque chi lavora da tanti anni perché se parliamo di investimenti probabilmente siamo degli adulti non siamo dei ragazzini non siamo dei bambini chi più giovane chi più anziano però voglio dire non siamo eterni quindi i prossimi 20 anni i prossimi 10 anni ma se siete giovanissimi i prossimi 30 anni saranno quelli sì che andranno a contare tantissimo su come impatto per la nostra vita da investitore perché l'investitore ha una vita assai più breve rispetto alla durata della vita media umana in quanto uno comincia a 25-30 anni avrete disponibilità economiche tranne poi va bene se a 20 anni rate dei milioni va bene ma non possiamo basare i nostri ragionamenti su questo e poi quando comunque siamo vicini i prossimi abbiamo aggiunto l'età pensionabile vorremmo già aver fatto tutto quanto è il nostro lavoro perché è il momento di godersi i frutti e non di fare le scommesse per il futuro anzi dovremmo anche avere un asset allocation un po' più conservativa quindi sono 20-30 anni gli anni buoni al massimo e se siamo adulti nel piano della nostra attività è probabile che quando le aziende USA non saranno più predominanti cioè non penso che sia un processo che possa avvenire in un secondo quindi proprio quando non sarà più così ragazzi le Google le Amazon le Microsoft del domani non saranno più negli States io credo non ne posso essere sicuro ma credo che le probabilità che la maggior parte di noi tutti quanti noi saremo sepolti se siamo grandi sono piuttosto elevate se ci pensate 20 anni 30 anni fa erano già dominanti sono rimasti tale questa azienda quindi ricordiamocelo ora qual è la mia ragione numero 2 quindi avete capito perché a me piace la market cap e non mi piace l'equal weight cioè Coletti cosa dice che lui vuole investire ragazzi equal weight cioè si va a selezionare etf che puntano su singoli paesi quindi noi possiamo trovare ad esempio l'etf sul Messico l'etf sulla Corea l'etf sugli Stati Uniti eccetera eccetera insomma ce ne sono tanti di etf quindi va Coletti a investire nella maniera più equa equilibrata simile possibile a livello geografico su diversi paesi senza seguire altre logiche anche se per sua stessa ammissione ha detto ad esempio che ha messo un po' di più sugli Stati Uniti da quello che ho capito tre volte di più come se magari uno mettesse non so uno sull'Italia uno sul Messico uno sulla Corea uno sulla Cina stati di metto tre più o meno è così comunque la ragione numero 2 che mi porta a sposare un All World un MSC World classico per Market Cap secondo me la scelta migliore è che non esiste a livello globale una diffusa correlazione positiva tra la crescita economica di una nazione e il suo mercato azionario anche a causa dell'effetto diluizione che significa che se voi andate a vedere l'andamento del PIL del GDP quindi di tante nazioni nel mondo i loro mercati azionari non hanno seguito quell'andamento a volte è del tutto differente basti guardare l'andamento del mercato azionario cinese in relazione al suo PIL o il PIL dell'India che è cresciuto di più del mercato per tanti anni magari del PIL americano ma il mercato azionario americano non è cresciuto meno di quello indiano e cose di questo genere eccetera eccetera perché accade accade questo accade questo innanzitutto perché le economie che emergono possono emergere grazie anche a tantissime piccole aziende piccole e medie aziende che neanche sono quotate in borsa che non ci stanno proprio vediamo magari un PIL che cresce tanto ma non è riflesso nei mercati azionari e a me interessano poi gli earnings per share delle aziende quindi a me interessa investire in grandi aziende che sono dominanti e riescono ad aumentare i propri utili e quindi non è detto che le aziende dominanti quotate in borsa che riescono ad essere efficienti eccetera eccetera siano presenti in tutti i mercati finanziari il mondo economico e quello dei mercati finanziari non sono la stessa cosa quindi dobbiamo sempre ricordarcelo e la ragione numero tre la diversificazione di coletti per quanto mi riguarda è gestione attiva non passiva ragazzi questo è un mio pensiero magari mi potrà chissà mal rispondere coletti no no ma non è così per me è gestione al 100% attiva e non passiva e ci può stare cioè ognuno decidesse quello che vuole fare ad esempio anch'io ho dei portafogli stock picking e quindi figuratevi però quando parliamo di un portafoglio che deve essere diversificato con gli etf io divento passivo al massimo posso scegliere una strategia quindi fattoriale quality momentum ma è comunque un'attività passiva che segue le logiche di market cap a livello globale d'altronde perché per me è attiva scegliere discrezionalmente perché questo fa Paolo Coletti su quali nazioni investire non è un processo rigoroso e automatizzato cioè lui non va a selezione un paese in maniera automatizzata quindi accade qualcosa nel mondo e si si ribilancia sceglie lui in quali paesi andare a investire tramite una sua discrezionalità tramite una sua percezione questo paese è più pericoloso questo paese è un po' più importante e comunque abbiamo capito che un peso maggiore lo dà a pochissimi a pochi paesi ad esempio Stati Uniti magari se lo meritano però tende a scommettere cioè a investire la parola più adatta a investire in maniera molto simile su diversi paesi ma è già chiaro che non lo farà su tutti alcuni verranno esclusi e non si può fare su tutti e io poi mi chiedo è davvero sensato che magari un piccolo Stato abbia lo stesso peso degli Stati Uniti o di un Giappone o dell'Unione Europea e io non parlo soltanto di Stati Uniti o Giappone come economie ma immaginatevi anche i loro mercati borsistici azionari e quale tipologie di aziende ci sono lì quindi su quale modello quando e come cambiare cioè qual è il criterio per cui io debba scegliere a tutti i costi un paese o escluderne un altro cioè in poche parole è semplicemente una gestione attiva e discrezionale e io quando scelgo gli ETF per il mio portafoglio per il mio asset location non voglio tutta quanta questa discrezionalità è l'ETF stesso che ci deve pensare per conto mio ad adeguarsi ai mercati borsistici finanziari globali e non alle economie globali tra l'altro e non alla geografia cioè io voglio sposare le aziende che funzionano meglio in borsa non me ne importa assolutamente niente quindi di una diversificazione forzata a tutti quanti i costi a livello geografico perché può darsi che ci siano dei mercati finanziari poco efficienti con delle aziende così così magari quotate in borsa che non riusciranno a crescere più di tanto e quindi sarà per me soltanto un fardello ragione numero 4 investire davvero equal weight quindi non è possibile è impossibile cioè è sempre discrezionale l'equal weight anche gli atf che vi ho fatto vedere prima investire equal weight è possibile farlo semplicemente se voi comprate l'S&P 500 perché lì ci sono le 500 aziende e si fa l'equal weight metto lo stesso peso su tutte le 500 le aziende e lo faccio ma quando io voglio farlo a livello veramente globale più diffusamente possibile non si può fare dovrei comprare 50.000 strumenti innanzitutto non è detto che abbia tutto quanto questo capitale perché se il mio capitale è ridotto che faccio mi compro 50 100 etf solo di commissione è veramente un gran casino passatemi questa parte poco tecnica e poi ripeto vedo sempre della discrezionalità ma questo paese no ma quest'altro si questo ha questa percezione va bene più o meno è simile questo do un po' di più quindi non è possibile un vero equal weight ma laddove lo fosse intendo dire anche a livello di size non solo geograficamente quindi distribuire il più possibile anche su logica ad esempio di small cap e non solo di large cap perché ricordiamoci quando io vado a comprare un etf msc world sto investendo sulle large cap e se io volessi fare distribuire il più equamente possibile il mio investimento anche sulla media piccola capitalizzazione allora se non andassimo a vedere teoricamente quello che accadrebbe andremo a sposare troppi asset inefficienti come ad esempio un numero eccessivo di small cap spazzatura quindi il problema in realtà infatti quando ci si riempie troppo eccessivamente di small cap alcune di queste portano risultati disastrosi e spariscono perché sono aziende piccole non ancora consolidate di fatti forse scegliere fattori che adesso ormai stanno nascendo qualitativi e value sulle small cap sul lungo termine potrebbe funzionare un po' di più poi è chiaro ci sono delle dinamiche speculative ad esempio quando vengono tagliate i tassi di interesse e poi si passa a tassi bassissimi è chiaro che il mondo growth e quindi anche small cap growth ne va a beneficiare ora quali sono altri ragionamenti un equal weight ha maggiore diversificazione e questo è ovvio è proprio scontato cioè se tu vuoi una diversificazione maggiore è chiaro che fai come coletti non hai una diversificazione superiore con un classico MSC world stai 70% Stati Uniti quindi un market cap tradizionale dobbiamo dire che viva una sorta di momentum implicito cioè tenda a seguire sempre di più l'azienda che è sempre più grande quindi una sorta di momentum implicito c'è ma io questo momento implicito lo voglio desidero essere esposto sempre su ciò che funziona e che automaticamente si ribilancerà per seguire questo principio è così strano vi chiedo io dopodiché molti parlano appunto del collasso degli Stati Uniti d'America cosa credete che accadrebbe agli altri mercati finanziari e questo ce l'ho messo perché so che spesso viene fuori questo discorso non l'ho sentito da Paolo Coletti l'ho solo associato sono altri ragionamenti da fare che ho messo qui e come vi ho parlato già del cambiamento che secondo me non può avvenire in un giorno di paradigma sulle aziende dominanti a livello globale soprattutto nei mercati finanziari che non necessariamente sono quelli diciamo delle economie tradizionali di quando vediamo le pille delle varie nazioni se gli Stati Uniti collassassero molti a volte me lo chiedono ma se gli Stati Uniti collassano ma io sono 70% si va bene l'etf si va a ribilanciare ma se collassa tutto insieme per quando si è ribilanciato ho già perso tutto e quindi non voglio gli Stati Uniti così pesanti e si ma se secondo te se gli Stati Uniti collassano così velocemente da demolire un MSC World e da farti affermare che nemmeno avrà più senso il ribilanciamento sarà tardivo all'entrano l'MSC World e allora quello che ti dico io è cosa credi che possa accadere a te alle altre economie agli altri mercati finanziari agli altri indici finanziari sarebbe un collasso abbastanza diffuso e generalizzato cioè vi immaginate una festa diffusa cioè c'è il famoso detto che quando com'è quando si gli Stati Uniti si prendono il raffreddore il resto del mondo che gli succede ragazzi cioè penso di prendere la polmonite no cioè fa un colpo di tosse e qui ci raffreddiamo e loro gli viene un po' di raffreddore e qui moriamo di polmonite perché poi va a finire così sull'economia e sui mercati finanziari quindi non so quanto questa preoccupazione possa essere sensata quanto uno si possa tutelare perché magari ha un po' più del resto e un po' meno di Stati Uniti in tal senso anche se secondo me ripeto è un errore essere totalmente Stati Uniti ve l'ho già spiegato cioè io non voglio scegliere ad oggi sono sicuro che gli Stati Uniti sono una scelta giusta e i miei ETF globali market cap l'hanno semplicemente cavalcata cioè quando si tratta quindi in conclusione per quanto mi riguarda di un ETF al di là di una strategia momentum quality che potrei sposare lo sapete ho degli ETF così mi piacciono però preferisco che scelga il mercato per me tramite una scelta globale quindi possiamo fare globale poi scegliete voi se aggiungere anche un po' i mercati emergenti c'è chi sostiene anche che i mercati emergenti sarebbe meglio lasciarli fuori perché su 10 anni 7 anni praticamente sottoperformano quelli globali mediamente e poi se un mercato emergente diventerà così protagonista così efficiente anche la sua nazione lo sarà eccetera probabilmente si trasformerà in un mercato da emergente sviluppato quindi poi lo ritroveremo anzi che non è che sarà per tutta la vita esclusa una nazione da un'inclusione di un ETF sviluppato però in ogni caso va benissimo anche un all world o un all country in cui abbiamo un po' di emergente questo lo lascio a voi va benissimo ma in ogni caso la logica è quella tramite una scelta globale in market cap questo se è vero che un investitore creda nella logica degli ETF quello per cui sono nato nati cioè la gestione passiva e l'efficienza dei mercati perché se io credo nella gestione passiva e nell'efficienza dei mercati sposo il mio classico MSC World è fine della storia sposo il mio world altrimenti significa che io non ci credo fino in fondo e necessito di intervenire con una gestione attiva perché di quello si tratta e scegliere discrezionalmente su quali paesi investire su quali no eventualmente quali sovrappesare e quali no senza però riuscire a seguire in maniera sicura e automatizzata i nuovi vincenti i vincenti di domani quindi i vincenti di oggi ci sono cioè i vincenti di oggi all'interno del MSC World una volta 10 anni fa sarebbero stati i vincenti del futuro che ancora non si conoscevano e sono stati cavalcati ha funzionato ma che cos'era 10 anni fa 15 anni fa meta che cos'era Tesla quando saliva adesso ma è scesa ma che cos'erano queste aziende sono state cavalcate obbligazioni etf verso singolo singole allora conetti in ambito obbligazionario sostiene come sia meglio scegliere singoli titoli da portare a scadenza ed evitare gli etf io direi di parlarne secondo me dipende da quali sono ovviamente i propri obiettivi secondo me la cosa più importante è capire qual è l'obiettivo a livello temporale cioè si è predefinito e certo il tuo obiettivo quindi ho della liquidità che mi avanza vorrei investirla mi serve fra 5 anni fra 3 anni fra 4 anni fra un anno fra 2 anni allora puoi cercarti delle obbligazioni che abbiano questa scadenza e tu sarai si spera certo perché di certo non c'è nulla però se prendi l'investment grade ragazzi avrai un'altissima confidenza che quello stato quella società non fallisca e soprattutto comunque con un orizzonte temporale relativamente breve e tu a scadenza ti riprenderai i tuoi soldi ok senza essere soggetto a altre questioni quindi sei sicuro fra 3 anni mi prendo i miei soldi e nel frattempo mi prendo le cedole dipende un po' dall'ambiente dei rendimenti dei tassi eccetera magari un 3 un 4 un 5 un 2% ogni anno e va benissimo a parte che secondo me ad oggi cioè fino a un paio di anni fa ti ho detto sì ok ma ad oggi secondo me cioè quello che ti dico io è che invece andrebbero sempre evitate le obbligazioni a meno che uno riesca magari a sfruttarle a specularle diciamo a speculare sul fatto che se io riesco a venderla in guadagno perché magari abbassano i tassi di interesse posso recuperare grazie al singolo titolo come quando mi compro la singola azione una minusvalenza da recuperare perché in Italia abbiamo una fiscalità indecente già la tassazione è altissima ed è anche inefficiente il discorso delle minusvalenze delle plusvalenze perché ditemi voi perché non possa con un fondo comune o con un etf che mi gera una plusvalenza recuperare delle minusvalenze generate quindi delle perdite passate è veramente una follia per farlo devo forza comprarmi singoli titoli o derivati e quindi stato italiano tu forzi l'investitore il risparmiatore a sposare degli strumenti o comunque delle scelte più pericolose e più speculative quindi secondo me la fiscalità italiana non tutela assolutamente il risparmiatore questa è una mia forte convinzione va a tutti quanti i costi cambiato ma superato diciamo questo aspetto di fiscalità mettiamo caso che non abbia nessuno minusvalenza vuole semplicemente investire ragazzi fine della storia capire quale sia uno strumento efficiente io direi che ad oggi si possono sposare per chi è sicuro fra 3-4 anni di non voler andare oltre questo termine prefissato perché ha degli obiettivi sicuri di sposare gli i-bond ok qui c'è tutta quanta la lista degli i-shares degli i-bonds vedete con scadenze 2025 2026 2027 2028 quindi ce n'è per tutti i gusti per chi vuole riprendersi i suoi soldi e per me sono degli strumenti migliori per due aspetti essenzialmente il primo aspetto è che io posso comunque con un click sposare un'ampia diversificazione non comprarmi soltanto un BTP italiano per dire e il secondo aspetto è che comunque con un investimento ridotto io posso beneficiare della diversificazione quindi non solo con un solo click sono diversificato ma posso investire anche pochi soldi oltre a beneficiare della diversificazione perché ci sono dei lotti minimi in acquisto cioè se io voglio comprarmi un bel po' di singole obbligazioni governative dovrò necessariamente avere un bel po' di soldini qui posso averci molti di meno e con un click mi compro l'ETF e posso diversificare quindi siccome finalmente abbiamo questi strumenti che arrivano a scadenza ci danno i nostri soldi si riesce pure all'inizio più o meno a capire quanto uno potrebbe portarsi a casa nel mentre come una singola obbligazione ma perché io mi devo andare a prendere la singola obbligazione e vivere anche un rischio specifico e non andare a ridurre il rischio specifico sul singolo paese per dire e avere maggior diversificazione comunque detto ciò superato diciamo questa situazione qui io ritengo per chi invece come me desidera costruire dei portafogli diversificati non solo 100% azionario che sia più logico andarsi a prendere i classici etf obbligazionari etf obbligazionari che secondo me sono adatti per coloro che hanno un obiettivo temporale che non è definito che è indefinito ma per indefinito ci metto dentro tutto ragazzi tutto tranne la situazione sono sicuro che al 100% il primo gennaio del 2008 mi servono i soldi perché non so dovrò iscrivere successivamente mio figlio poi all'università o fra due anni ho l'obiettivo di comprarmi casa l'obiettivo lo sapete voi quindi io a tutti i costi ho necessità al 100% di riavere i miei soldi quell'anno lì tutto il resto è un obiettivo ipotetico un obiettivo indefinito quindi io se ho degli etf obbligazionali è perché voglio costruire una diversificazione voglio avere un portafoglio diversificato e un etf obbligazionario poi ragazzi ha un grandissimo vantaggio che può essere anche il suo svantaggio ma un grandissimo vantaggio ovvero quello di mantenere sempre la duration che significa se io mi compro un a mondi euro government ragazzi da poco l'ho anche aggiunto nel mio portafoglio questo qui secondo me a un certo punto ragazzi vedrete come l'Europa dovrà prima la guarda dovrà muoversi prima di di Paolo ad un certo punto andarci giù pesante perché l'economia europea ristagna ragazzi ristagna e l'inflazione mi sembra comunque abbastanza contenuta comunque vedete qua abbiamo un etf con bond governativi europei in unione europea 7-10 anni quindi in euro va bene se io vado qua giù vedo una duration 7.47 e vedrò quindi una ripartizione dell'indice ovviamente fra scadenze 7-10 anni va bene tutto quanto investment grade tutto quanto governativo ecco questa duration è mantenuta nel tempo cioè siccome deve essere fra 7-10 anni la duration sarà sempre simile a questo valore perché ad oggi la mia obbligazione non è più fra i 7-10 anni perché è passato il tempo dovrà rollare i miei contratti cioè devo andarlo a vendere e comprarmi un'obbligazione magari decennale perché la mia ex obbligazione decennale adesso mi scade fra 6 anni fra 5 anni cioè non mi scade più fra 10 anni fra 10 e 7 anni quindi ho un obiettivo dichiarato e lo mantengo e quindi ho sempre la mia duration cosa succede ragazzi perché molti dicono ok ma qui io sono sempre in balia dei tassi di interesse con la singola obbligazione no dipende ragazzi non è vero allora se io mi compro la singola obbligazione mettiamo qua se io mi compro una singola obbligazione a 10 anni va bene se fra un anno mi alzano a dismisura i tassi di interesse perché chissà cosa succede c'è l'inflazione che va al 10% la mia singola obbligazione che comunque ancora mi scade fra 9 anni avrà una duration di 8 anni qualcosa eccetera cosa succede che avrà una forte sensibilità anche la singola obbligazione allo spostamento di tassi di interesse e quindi il suo valore crollerà io vedrò un portafoglio un qualcosa che è crollato e questa cosa ovviamente capita anche con un etf con una duration così come questa che stiamo vedendo è chiaro che qualcuno mi dirà va bene ma io poi resisto 10 anni e alla fine mi riprendo il mio investimento nel mentre mi sono preso un po' di cedole ragazzi ma se io resisto anche 10 anni col mio etf allora passano passano degli anni no innanzitutto comunque guardate qui c'è scritto il rendimento che è 2,99 è il 3% quindi quello che noi capiamo che se io la supero questa duration di 7,47 cioè se io supero questa durata in anni questa qui comunque è la mia aspettativa di rendimento va benissimo va bene ok come quando si mi compra una singola obbligazione ma detto ciò passa qualche anno e siccome qui vengono anche per dire rollati i vari contratti le varie obbligazioni si adegua anche la nuova realtà quindi si comincia anche piano piano a riempire di nuove obbligazioni che hanno dei rendimenti molto molto alti e che sono state prese a tasse di interesse elevati dopodiché si iniziano a tagliare con forza dopo un po' di anni quindi i tassi di interesse magari fino a zero io siccome ho mantenuto qui una duration comunque elevata con questo strumento qui con questo etf andrò a beneficiare al massimo del taglio dei tassi ok magari in maniera fortissima in maniera eclatante perché ha continuato a mantenere quella duration si è comprata nuove obbligazioni magari decennali ha mollato quelle che mano a mano stavano diminuendo in duration a nuove condizioni di mercato e se c'è un taglio aggressivo dei tassi perché c'è una crisi e perché l'azionario sta crollando questo etf funzionerà centomila volte meglio di quella singola obbligazione che mi ero che mi ero comprato e mi proteggerà quello che vi dico è che un etf ha una caratteristica ovvero è vero che ha un rischio costante con la sua duration ma anche una protezione costante e io non ho la protezione costante con l'obbligazione singola che si sta avvicinando a scadenza non accade questo perché se mi prendo l'obbligazione singola oppure mi prendo questo etf ok mettete caso che rimangono così rimaniamo in stasi 2-3-4 anni non succede niente sul mercato obbligazionario rimaniamo così con questi tassi al 4% qui più o meno qui in Europa mi prendo un'obbligazione che mi scade fra 5 anni e poi mi prendo anche questo etf invece che me lo tengo fisso fra 4 anni tagliano i tassi a 0 di corsa tutti i mesi 0,25 0,50 come è già successo in passato perché succede una crisi su quella singola obbligazione che mi ero comprato che ormai manca un anno alla sua scadenza non vedrò nessun effetto cioè niente ormai non c'è nessun effetto è arrivata la scadenza mi sono preso le cedole che effetto devo vedere è finita è finita la duration su questo etf invece vedrò tutto quanto l'effetto e se fa parte del mio portafoglio cosa succederà mi proteggerà dal crollo vogliamo andarlo a vedere insieme che è così guardate cosa servono gli etf tradizionali obbligazioni in portafoglio ragazzi servono semplicemente a tutelarci dai disastri e a farci guadagnare durante i decenni perduti a questo serve l'etf obbligazionario l'etf obbligazionario serve a bilanciarmi serve a creare maggiore efficienza serve a tutelarmi a proteggermi in maniera costante guardate chi è andato 100% azionario qui dal 2000 ve lo ricordate dal 2000 al 2010 ricordate il famoso decennio perduto non ha guadagnato niente questo è un portafoglio 60-40 vi sto mostrando dove al suo interno c'erano il 40% sempre di anni hanno bilanciato il 40% di obbligazioni vedete che è cresciuto a 2.48 nel 2000 circa poi bisogna del giorno che lo prendiamo facciamo qui dov'è riesco ad arrivare ragazzi facciamo 31 gennaio 2.39 era il 31 gennaio del 2010 3.77 cioè è cresciuto tanto questo portafoglio cioè durante il decennio perduto io qui grazie all'obbligazionario sono cresciuto tanto quindi l'obbligazionario nel lunghissimo termine un etf obbligazionario è chiaro che sarà una zavorra rispetto a un portafoglio 100% di etf azionari ma a lunghissimo termine è 30 anni più cioè le statistiche ci dicono che noi siamo confidenti al 99,9% di essere profittevoli e positivi sull'azionario sempre e comunque dopo i 30 anni più è enorme come orizzonte temporale se invece noi siamo più diversificati ad esempio sappiamo che io ho scelto anche l'oro di avere eccetera noi abbiamo dei portafogli che rispondono a queste dinamiche quindi che ci faranno guadagnare probabilmente un po' di meno un 6 un 7 un 8% all'ordo dell'inflazione invece con 10 però guardate come ci protegge durante il decennio perduto quindi gli etf rendono più efficienti più sicuri ci tutelano di più le obbligazioni etf obbligazioni all'interno dei portafogli rispetto al 100% azionario quindi se uno desidera vivere questo e proteggersi a fronte comunque di un investimento interessante diamine se servono gli etf obbligazionari perché altrimenti uno si ritrova che va magari in pensione e poi è sfigato dove si ritrova a vivere degli anni drammatici in termini di resa azionaria e da dove riesce a trarre un qualcosa capite qual è il problema quindi concludendo e poi ci salutiamo le obbligazioni singole per me hanno un senso se io ho un obiettivo temporale ben definito ma ad oggi ci stanno gli ebonds quindi probabilmente sceglierei gli ebonds per tutti gli altri casi voglio gli etf tradizionali perché mi proteggono va bene quando è che io comunque non li avrei mai missi neanche gli etf obbligazionari ve lo dicevo due tre anni fa ecco quindi uno deve avere anche una elasticità minima mentale anche se ci stanno i modelli 60-40 anche se ci stanno i lazy portfogli ci stanno portfogli basati sul ciclo della vita eccetera eccetera non sposiamo le regole in maniera religiosa sposiamo le maniere efficiente anche in maniera rigorosa ma non religiosa che significa significa che andarsi a comprare degli etf obbligazionali quando uno costruiva un portafoglio due tre anni fa era altamente rischioso perché le obbligazioni rendevano zero quindi se ci troviamo in un momento in cui le obbligazioni rendono zero i tassi di interesse sono zero l'unica cosa che può accadere nel prossimo futuro è che aumentano i tassi io cercherei di evitarle ok queste diciamo sono un po' le eccezioni che confermano la regola per quanto riguarda il 100% azionario Coletti sostiene che per lunghissimo termine bisognerebbe essere sempre 100% azionario ma in tanti lo sostengono anche io in tanti video ho detto ma per lunghissimo termine ok va bene 30 anni più lo stesso Warren Buffett suggerisce di accumulare esempio sull'S&P 500 comunque erano suggerimenti di anni fa però le obbligazioni sono diciamo adatte per chi vuole investire per il breve meglio termine o parcheggiare per un po' della liquidà in eccesso diciamo questo dice Coletti io invece vi ho spiegato quello che penso in relazione a tutto quanto questo discorso per dire ad oggi non riesco più ad essere 100% azionario alle attuali condizioni ormai quasi quarantenne con un patrimonio che almeno per me è diventato rilevante e importante e quindi voglio anche vivere una protezione costante intorno al mio portafoglio e avere una mia diversificazione allo stesso tempo ho visto tantissimi studi non so se lo porterò mai qui su youtube magari si eccetera comunque ho dei report ho degli studi che mostrano come un quantitativo d'oro renda un portafoglio anche magari un 60-40 ci buttiamo dentro anche un po' di oro quindi in realtà in questa distribuzione lo rende ancora più efficiente ancora più performante lo migliori ok va bene ragazzi io posso anche staccare ed eccoci qui giunti alla conclusione del contenuto fatemi sapere se è stato dei vostro gradimento se lo avete apprezzato insomma tutto quanto lo sforzo che ho portato qui per cercare di motivare come mai la penso in un modo anziché un altro fatemi sapere voi che scelta avete intrapreso cioè se siete più vicini a quelle che sono le mie logiche oppure se la vostra scelta è più simile a quella del professore se vivete un mix se avete dei dubbi insomma quello che vi passa per la testa l'importante è sempre che sia un messaggio costruttivo una domanda intelligente e allo stesso tempo ci sia educazione no? ma per fortuna la quasi totalità di voi è così quindi significa che ho catturato il pubblico giusto e che credo di che io stia diciamo lavorando bene almeno sotto questo profilo comportamentale umano diciamo così quindi fatemi sapere la vostra io vi do appuntamento a presto veramente a prestissimo nel frattempo lo sapete come sempre vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti ciao